In collaborazione con Antica cantina, l'osteria delle donne Piano B, snack e coffee Orvietosi.it, il quotidiano di Orvieto e dell'Orvietano In occasione della cerimonia di consegna dei baschi verdi Agli allievi del centro addestramento e specializzazione della guardia di finanza di Orvieto Il procuratore generale presso la Repubblica di Brescia, dottor Pierluigi Maria Dell'Osso Ha ricevuto in dono il basco d'onore Un omaggio simbolico ma estremamente significativo Consegnato l'anno scorso anche a Nonna Betta La vedova del magistrato Nino Caponnetto Che come sapete è stato l'ideatore e l'organizzatore del pool antimafia in Sicilia La signora Caponnetto peraltro era presente alla cerimonia anche quest'anno E indossava il basco verde calzato sul proprio capo La collega Camilla Ballarin al termine della cerimonia ha intervistato il dottor Dell'Osso Ponendogli alcune domande sullo scottante caso di Iara Gambirasio La giovane tredicenne scomparsa e poi purtroppo trovata morta nel 2010 Per il cui omicidio il dottor Dell'Osso ha curato le indagini Che hanno portato all'arresto del probabile assassino Vediamo La giovane tredicenne scomparsa e poi purtroppo trovata La mia incolumità è affidata ai baschi verdi Da, è stato ricordato, tra poco sarà un quarto di secolo I baschi verdi, alcuni dei quali sono con me fin dall'inizio E quindi sono stati in qualche modo adottati dalla mia famiglia Non esistendo più formalità di alcun tipo Già che il rapporto è diventato un rapporto che alla professionalità Ha saputo coniugare l'affettività, un rapporto affettivo Due sole parole per la Guardia di Finanza Che in Italia rappresenta un corpo delitto In convenze per le attribuzioni e per le competenze che ha E' un corpo fatalmente destinato Proprio per questo tipo di attribuzioni Ad avere dei contatti con ogni genere Diciamo di affari e di attività Naturalmente prima e tra tutte quelle che hanno risvolti O comunque contenuti economico-finanziali Fino a qualche tempo fa il caso di Iara Sembrava essere uno dei tanti casi di cronaca giudiziaria irrisolti Poi però c'è stata una svolta Importante, grazie all'arresto di Massimo Giuseppe Bossetti Che secondo gli inquirenti sarebbe stato il presunto assassino di Iara Il cui corpo martoriato è stato ritrovato abbandonato In un campo a 10 km dalla sua abitazione E' vera la tesi secondo la quale la giovane sarebbe stata ritrovata morta più per il freddo e per gli stenti Che per le numerose ferite inflitte dal suo assassino? Devo dire che naturalmente con gli accertamenti e le indagini tutt'ora in corso Io, procuratore generale, chiedessi l'esempio di come si possa interferire negativamente In indagini in corso divulgando dei particolari Credo che sarebbe piuttosto paradossale Quello che posso dire è questo Certamente è stato un caso Vogliamo dire è tuttora perché poi avrà le sue Che ha colpito molto l'opinione pubblica e l'interesse mediatico E devo dire che era una delle due particolari Ma ce n'è una grande Ma di quelle che, voglio dire, interessavano un po' Ecco anche all'opinione pubblica Più che ai tecnici, agli addetti ai lavori Delle due, chiamiamole così, emergenze Delle due questioni importanti Che riguardavano il distretto di Brescia Che è metà Lombardia Proprio metà Allorché io ho avuto l'incarico Sono stato promosso all'incarico di procuratore generale del distretto E devo dire che da subito ho voluto instaurare con la procura di Bergamo Che è una delle procure del mio distretto Col procuratore il bravissimo Francesco Dettori Magistrato eccellente E con la collega Della procura Testimonianza alla interessata Non ha mai risposto Non ha mai Ha continuato a lavorare Molto allacremente Riservatamente E professionalmente Le critiche venivano facili Perché Occorrevano dei denari Per fare quel tipo di indagini Eccetera E occorreva anche un po' di coraggio Perché si trattava di inoltrarsi in un mare In cognitum Dicevano Ora Quella Intuizione Quel tipo di Investigazione Inedita Diciamo la verità E' assolutamente inedita In Italia Non che non si siano fatte Si sia fatto ricorso al DNA O ad altre cose Nell'ambito Di Diverse indagini Ma Questo protocollo Investigativo Che è stato applicato Non ha precedente in Italia E non ne ha neanche Nell'Unione Europea Dove io Facendo parte Facendone parte Ho nell'assemblea plenaria di Atene Fatto accenno E notando La grande curiosità La grande Il grande interesse Dei colleghi Dell'Unione Europea Tanto che poi A cose finite Di questo Diciamo Di questo percorso Investigativo Farò come ho promesso Bene Se le cose Fossero andate In un certo modo Ovviamente Si sarebbe Sparato Ad alzo zero Sulla Dissipazione Sulla Dissipazione Le cose Sono andate Per buona avventura Soprattutto Nell'ultima fase Quando si Non dico si disperava Ma insomma Si continuava A operare Con sofferenza Nell'ultima fase E' venuto fuori L'elemento Diciamo Centrale Fondante Fondamentale Che ha Dato una svolta Completa Credo che adesso Quello Ecco Le indagini Stanno Cercando Di Come dire Completare La cornice Il quadro E una serie Di elementi Che non sono Trascurabili Non sono per così dire Ultroni E sovrabbondanti Rispetto a quello Centrale E quindi si sta Mettendo a punto Tutto questo Ma evidentemente L'elemento centrale A tutti noto Quello della Comparazione Del DNA E' un elemento Di carattere Scientifico Oggettivo Sul quale Si possono fare Tutte le Lugubrazioni Possibili Ma sicuramente E' un Fondamento Dopo l'arresto Del Bossetti Sembrerebbe Che lui Non conoscesse Prima La ragazza Prima di questo Tragico giorno Quindi Quale sarebbe Il movente In questi casi I moventi Li possono Disvelare Solamente Gli autori Perché E' chiaro Che può essere Una qualunque cosa Compreso Un raptus Quel che sia Eccetera In ogni caso Voglio dire Quando Il movente Certamente Come l'arma Come l'ora E' tutto Uno degli elementi Canonici Quando si Ricostruisce Un omicidio Un caso di omicidio E non solo Ma Ovviamente Può anche Non essere Individuato Nel momento In cui sono Individuati Tutti gli altri Elementi Centrali E concludenti Un movente In un caso Del genere Per come È avvenuto Eccetera Lascia pensare Che l'autore Evidentemente Volesse fare Violenza E volesse Forzare E' abbastanza Voglio dire Intuibile Cosa rischia Il Bossetti Nel caso in cui Viene dichiarato Colpevole L'omicidio L'omicidio Aggravato Comporta La pena Dell'ergastro Poi Possono essere Attenuanti Non attenuanti Ma Detto così In termini teorici E comportare Il gastro Perché questo caso Che ha visto Una strettissima Collaborazione Tra diverse forze Di polizia Potrebbe diventare Un esempio Didatticamente utile Per il futuro Una sorta Di paradigma Investigativo Come Lo ha definito La PM Titolare Dell'inchiesta Letizia Ruggeri Lo ha definito Molto bene Perché Può Rappresentare Un protocollo Investigativo Particolare Nelle sue Circonvoluzioni Ha avuto Perché è durato Eccetera Proprio perché Non c'è E' un inedito E' un Utilizzo Della tecnologia E delle scoperte Scientifiche In maniera Che prima Non era stata mai fatta E non solo in Italia Certo E' un discorso Complesso E delicato Perché Coinvolgere Diciamo Una Moltitudine Di Soggetti E una Dar luogo Ad una Moltitudine Estremamente Cospicua Di accertamenti In serie E via discorrendo E' chiaro Che comporta La necessità Di risorse E anche Di Come dire Ragionevoli Fondatezze Di una ricerca Di questo tipo Perché Non è che si possa fare Così Senza avere Le premesse O senza Non avere Nessuna indicazione In questo senso Ma certamente Potrà rappresentare Un Paradigma Un protocollo Operativo Anche da Da discutere Come dicevo Prima Con I nostri colleghi Stranieri Che sono interessati In che misura Oggi Magistrati Possono Svolgere Il proprio Lavoro Nella più Assoluta Autonomia Di giudizio I magistrati Fino a quest'oggi Possono svolgere Il loro lavoro E devono A mio avviso Si dice Ricette Il loro lavoro Nella più Assoluta Indipendenza Autonomia Di giudizio Eccetera Finora Siamo riusciti A conservare Questo Questo Diciamo Plateau Di attribuzioni Di cui siamo Molto gelosi Uso il termine In maniera Parzialmente Impropria A cui siamo Molto attaccati Perché Poter Dicere Ius Fare giustizia Rendere giustizia Presuppone Come Condizio Sine Qua non Che Il soggetto I soggetti L'assetto Chiamato Per questo Debba essere Imparziale Debba essere Autonomo Perché Se no Voglio dire I poteri Dello Stato Che Monteschiesi E sforzato E prima di lui Altri come Leibniz E via discorrendo Di Fotografare Nella divisione Assoluta Delle sfere Di competenza Esecutivo Legislativo E giudiziario E sarebbe Una vacua Espressione Io dico Non venga mai Il giorno In cui La giustizia Sia Non dico Asservita Ma anche In qualche Modo Condizionabile Da parte Legittimamente Voglio dire Condizionabile Perché Illegitamente Di tanto In tanto Viene condizionata Ma almeno Voglio dire Quando poi Si scopre Ci sono Reati Gravissimi Da parte A carico Dei magistrati Che possa venire Legittimamente Legalmente Condizionata Da un altro Potere E dico Io quel giorno Non lo voglio vedere Poi Ho sufficienti anni Per sperare Di non vedere